Buona e santa giornata a tutti, ben trovati, pace e bene, siano lodati Gesù e Maria. Sono venuto a salutare Gesù e la Madonna qui in chiesa per affidare a loro e anche affidarmi a tutti voi per questi giorni di viaggio. Lo sapete, tra poco mi metto in viaggio sul treno per andare a Roma e poi da lì in macchina mi portano a Riano, io non so neanche dove sia, però ecco in provincia di Roma questo sicuramente, dove stasera alle 18 ci sarà la Santa Messa e poi questa Catechesi sulla speranza e sul libro, la speranza che cerchi, in preparazione al tempo di avvento nella parrocchia Immacolata Concezione. Allora, io mi metto in treno, chissà voi che cosa farete, ma qualsiasi cosa farete, non dimenticatevi mai di farla alla presenza del Signore, di farla sempre solo sotto lo sguardo di Gesù e di Maria, di farla sempre solo sotto la benedizione del Signore. Dite nella vostra preghiera, Signore, quando apro bocca, parla attraverso di me, perché possa evitare di ferire, di dire del male, di dire l'errore. Quando muovo le mani, Signore, opera attraverso di me, perché quell'opera abbia il sapore della bontà. Quando cammino, Signore, fa che i miei passi siano benedetti da Te, perché quei piedi che camminano siano piedi che testimoniano che tutto è amore del Signore. E allora, insieme a voi, vorrei consegnarmi e consegnarci al Signore con il Salmo 16. Voi ripetete il ritornello. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ripetete. Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sia attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Tieni saldi i miei passi sulle tue vie, e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, oh Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Custodiscimi come pupilla agli occhi. All'ombra delle tue ali nascondimi. Io nella giustizia contemperò il tuo volto. Al risveglio mi sazierò della tua immagine. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. E ora invochiamo l'aiuto della Madonna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti e vi prego di accompagnarmi con la vostra preghiera. Vi voglio bene. Ciao a tutti. Ciao.